Allora ragazzoni, evento Gashapon, abbiamo già preso i pamphlet e dietro di noi c'è il mega lepone che abbiamo fatto qui giù, è spesso la strung 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 Allora questa è la storia di Gashapon, questa penso che è una delle più vecchie del 77 Oddio ce n'è una ancora più vecchia Poi c'è questo che è del 91 Poi 97 E questi sono quelli nuovi che si trovano attualmente, infatti lo dà 2020 E poi qua c'è tutta un'esibizione con un po' di Gashapon Qua sempre al 77, quindi come erano i primi Gashapon Comunque ho un grande ragazzo, 83 Poi c'è 95 Guarda i condamoni Guarda qui nel 2003, tipo le cose, c'è pure il quaderno Il quaderno è bellissimo Il quaderno è stupendo Questo è il 2002 lo dà Il 2003 Un 2, poi c'è il 2003 Poi c'è il 2003 Dic? Sì, qua c'è UKEIMOACH Le vuole il padre Poi 2020 E poi c'è il 2020 E tamagotchi, e mini tamagotchi sono freddo una città questi sono spettacolari con le videocassette dentro c'è nota paura guarda che spettacolo lei è dedicata a one piece c'è gli occhi accesi non c'è qualcosa che mi piace a me vediamo se c'è scusi lei vuole fare la foto nella palla ovviamente vabbè ma io voglio rimanere qua per tutta la vita oppure le cose dei monsters oddio li voglio per gli ombrelli questi non sono nemmeno ufficiali ancora no non c'è manco scritta la data guarda quel rufi oh c'è pure trafalgardonna questi sotto pure tutti in fase d'approvazione ancora c'è pure lo spazio espositivo di ultraman con anche i modellini entro la città oddio c'è una salsiccia oddio c'è una salsiccia no ma loro li trovi in coppia no c'è io quello lo voglio io quello lo voglio io quello lo voglio oddio tutta la zona dragon ball no c'è un po' adesso perché uno non è appassionato perché se no c'è anche quintali di insetti scarafaggi camaleonti scrotali Doraemon con la sfera del gachapon che in realtà è Doraemon stesso e a fianco la roba del NES no c'è troppo bella se mi metto la manuella così io quello devo girare mi è scritto girare c'è scritto girare vabbè gira 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 oh 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 shihi Allora parliamone, sono dei secchi e contengono i gashapon, oddio quella è proprio la macchinetta La forma di Pac-Man che si muovono, no? Lui è triste, sì E niente, ed è subito Death Stranding, il gashapon portatile, bellissimo, lo voglio L'eleganza Livello Photoshop Paint su Windows 98 Ma che neuralink l'ha? Noi qua, queste cose le famo che gashapon Guardami Regina Ohhhh 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 No Vai a ritirare il tuo premio Allora ragazzoli l'evento l'abbiamo finito Ho fatto tantissime cose E' molto molto carino Per essere un evento gratuito E poi ho potuto vedere le mie cose in anteprima di Sakura Che usciranno a maggio Quindi bella ragazzuoli Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima Ciao 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 Verovica e Andrea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti